Il programmatore Green Timer Bluetooth per giardini e terrazzi si distingue per la facilità di programmazione. La programmazione avviene per mezzo dell'app gratuita da installare sul vostro smartphone Android o iOS. Permette cicli di irrigazione da un minuto a sei ore con incrementi di un minuto. Dopo aver tolto il programmatore dalla scatola, aprite il vano batterie nella parte posteriore e inserite due file di tipo AA. Richiudete con cura il vano batterie. Testate l'apparecchio premendo il tasto di apertura manuale. Richiudete la valvola premendo ancora il tasto di apertura manuale. Avvitate il raccordo di entrata ad un rubinetto con attacco da tre quarti o da un pollice. Stringete il raccordo a mano senza utilizzare attrezzi per non danneggiare il programmatore. Aprite il rubinetto e ripetete il test di apertura manuale con l'acqua. Scaricate l'app Water Timer sul vostro smartphone e abilitate la trasmissione Bluetooth. Aprite l'applicazione e selezionate la vostra lingua. Dopo aver premuto l'icona irrigazione, l'applicazione effettua una scansione per cercare i programmatori attivi nelle vicinanze. Scegliete il programmatore desiderato. Dalle impostazioni potete rinominare il programmatore o aggiungere una password di protezione. Premendo l'icona irrigazione si apre la schermata di programmazione dove possiamo impostare la durata, l'orario e la frequenza dell'irrigazione. Per cambiare uno qualsiasi di questi parametri è sufficiente selezionarlo e modificarlo. È possibile impostare due orari di inizio dell'irrigazione e una pausa fino a sette giorni in caso di maltempo. Da questa stessa pagina possiamo eseguire un'apertura manuale temporizzata. Dopo aver premuto sull'icona scegliamo il tempo di irrigazione e il comando di apertura. La valvola si chiuderà automaticamente allo scadere del tempo. In basso l'applicazione ci mostra la carica della batteria e l'intensità del segnale bluetooth. Questo programmatore ci offre anche la possibilità della programmazione mist, detta anche nebulizzazione. In pratica possiamo impostare una finestra di tempo e all'interno di questo periodo ripetere dei cicli di irrigazione e delle pause. Ad esempio, dalle 10 alle 16, 10 secondi di irrigazione ogni 10 minuti di pausa. Questa funzione può essere utile per mantenere l'umidità o abbassare la temperatura. Ricordatevi di usare il timer solo con acqua fredda. Durante l'inverno smontate il programmatore e dopo aver tolto le batterie riponetelo in un luogo asciutto.